Grazie alla sua posizione geografica e a specifiche competenze manifatturiere nei distretti limitrofi, Milano si è contraddistinta nel processo di innovazione e modernizzazione della società civile italiana. Pioniera dello sviluppo artigianale, poi industriale e commerciale, nonché anticipatrice delle trasformazioni sociali, la città si è ritagliata il ruolo di capitale economica, industriale e finanziaria, raggiungendo il suo apogeo nel secondo dopoguerra e contrassegnando la storia del design nazionale. Le radici del successo di una cultura politecnica milanese attingono ad un indole alla sperimentazione e ad un ricco tessuto artigianale di storica tradizione, profondamente italiane. In particolare in Lombardia queste radici fanno riferimento all'operosità di una dinamica borghesia e all'iniziativa di imprenditori illuminati, combinate alla fondazione di scuole professionali, oltre alle storiche università e accademie come il Politecnico di Milano e l'Accademia delle Belle Arti di Brera. L'affermazione della cultura politecnica vive di forti contaminazioni delle attività espositive di musei e gallerie d'arte, fondazioni e associazioni di impresa. È in questo contesto che si è costruito e identificato il sistema design a Milano, con particolare riferimento al settore del design. Nel tardo ottocento, con la ritrovata Unità d'Italia, aziende storiche come Campari, Pirelli, La Rinascente, Breda, Alfa Romeo, Innocenti, Touring Club Italiano, per citarne solo alcune, e i loro prodotti icona del design come il Campari Soda, il Centurato, la Giulietta, lo scooter Lambretta e le guide turistiche intercettano la modernizzazione delle strutture produttive dei diversi settori e avviano una produzione industriale che calamita numerosi innovatori, progettisti, grafici e pubblicisti. La ricostruzione post-bellica solleverà grande dibattito. La stagione degli anni 50 e del boom economico corrisponde all'affermazione del New Italian Design, che vede un ulteriore rafforzamento del legame tra design e industria avanzata. A premiare la crescente autonomia del design italiano, nel 1954 i grandi magazzini La Rinascente organizzano il premio Compasso d'Oro, che verrà curato dal 1964 dall'ADI, Associazione del Design Industriale. È in questo contesto di ricostruzione e rilancio economico che prendono forma leggendari oggetti nati dalle brillanti collaborazioni tra designer e piccole e medie imprese, come Sozzas e BBPR per Olivetti, Ponti per Cassina e Venini, Nizzoli per Necchi, Albini per Bonaccina, Munari e Mari per Danese. E a seguire negli anni 60 Castiglioni per Zanotte e Floss, Zanus e Saper per Brionvega, Bellini per Olivetti, La Rinascente e Cassina, Magistretti per Artemide, Colombo per Oluce. In parallelo va evidenziato come l'evoluzione del design a Milano abbia trovato alimento nella proliferazione di istituzioni didattiche, nell'editoria specializzata e in prestigiose sedi espositive. Fra tutte la triennale di Milano, con il suo Palazzo dell'Arte, monumentale edificio industriale disegnato da Giovanni Muzio che ha rappresentato un nuovo modello di spazio espositivo europeo, flessibile e al contempo aperto. La triennale di Milano è stata il centro della sperimentazione più evoluta dell'architettura, del design e delle arti visive, ospitando le diverse edizioni triennali con le frange più avanzate e sofisticate del movimento moderno, come l'ottava esposizione del 1947 dedicata all'abitare e alla realizzazione del progetto del QT8, quartiele triennale 8, e la decima edizione del 1954 dedicata alla prefabbricazione e all'industrial design. Altra istituzione è l'Associazione per il disegno industriale, ADI, fondata nel 1956 per riunire intorno al tema del design italiano ed internazionale, progettisti, imprese, critici, ricercatori e distributori. Leggendario è il compasso d'oro, il più antico e prestigioso premio per il design assegnato ogni due anni. L'istituzione di scuole di formazione professionale come l'ISIA, la società umanitaria, le scuole del Castello Sforzesco, supportate dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano nel 1993, alimenta l'offerta formativa. La integrano più moderni istituti para-universitario, post-universitari come la Scuola Politecnica di Design, Polidesign, Istituto Europeo di Design, Domus Academy e Nava. Anche l'editoria della cultura del progetto dedicata ad architettura, disegno industriale e grafica occupa un posto assai rilevante a Milano. Se all'origine dell'industria editoriale va menzionata la storica fondazione del Corriere della Sera nel lontano 1876, sono le importanti casi editrici come Sonzogno, Oepli, Mondadori, Rizzoli, Bompiani, Feltrinelli e poi negli anni 70 Electa, Alfieri, Ufficine d'Arte Grafica, Schira e più recentemente Silvana Editoriale, a rappresentare le tappe fondamentali della ricerca e del dibattito critico. In parallelo, fondate e dirette da progettisti e critici illustri, le storiche riviste milanesi di settore, che raggiungono fama internazionale e contribuiscono a contaminare le discipline, intersecando nuovi linguaggi, sono Domus, Casabella, Interni, Abitare, Ottagono, Stile Industria, Modo, Spazio e Società e negli anni 80-90 Quadrante, Rassegna, Larca, Casa Vogue. Aperte alle questioni del progetto e della modernità, queste riviste specializzate hanno rivelato nel tempo lo stretto rapporto tra rinnovamento culturale e veste grafica, inglobando il vertiginoso sviluppo della fotografia e della grafica pubblicitaria. Tra gli studi fotografici ricordiamo Paolo Monti, Ugo Mulas, Gabriele Basilico, lo studio Ballo più Ballo, Oliviero Toscani. Agenzie grafiche e testate periodiche si moltiplicheranno negli anni 80 e 90, accanto alle periodici di arredamento, per rivolgersi ad un pubblico colto ma non necessariamente specializzato, attente al lettore che è anche consumatore e acquirente. Nel suo complesso, l'editoria specializzata, fatta da riviste, periodici, accanto a monografie, cataloghi di mostre, volume teorici e storici, da cataloghi commerciali, opuscoli, libri celebrativi, pubblicazioni di settore merceologico e di associazioni di categoria, rappresenta una fonte preziosa di ricerca e indagine e al tempo stesso un prezioso strumento di promozione dei prodotti e dell'immagine delle aziende, concorrendo all'affermazione del Made in Italy. Studi professionali, gallerie d'arte e fondazioni in aggiunta oggi alle case museo e agli archivi di persona o di impresa contribuiscono con la loro indefessa attività alla diffusione e alla comunicazione delle tematiche del design, spesso con eventi a tema, allargati a luoghi non convenzionali, in zone periferiche quale Bicocca, Lambrate e Certosa, meritano menzione le fondazioni Castiglioni, Magistretti e Albini, case studio dei loro fondatori nonché archivi dei loro materiali di progetto. Costante l'attività espositiva promozionale svolta dagli showroom, di mobili, cucine, apparati luminotecnici, tessuti per l'eredamento, con relativi punti vendita che contano a Milano oltre 240 unità di vendita plurimarca e monomarca. Per estensione, il sistema fieristico con la centrale Fiera Milano e la sua espansione Fiera Raw offre annualmente manifestazioni fieristiche ad ampio spettro, con forte attrazione del mercato estero. Con il Salone del Mobile o Design Wicca e le sue plurime espansioni metropolitane del fuorisalone, Milano amplifica il proprio ruolo di vetrina espositiva, ampliando la forza comunicativa del settore. Infine, in tempi più recenti, all'integrazione del sistema design concorre anche la trasformazione di intere aree dismesse ex-industriali, con l'insediamento di attività terziarie relative al design, moda, comunicazione. Ne sono esempio l'insediamento del Politecnico nell'area Bovisa, dell'Università Bicocca nella zona ex-Pirelli, il nuovo polo culturale MUDEC, centro delle culture extraeuropee, nell'ex-ansaldo. Emerge dal sistema design la peculiarità del saper fare, supportato dalle relazioni, dove designers e studi di progettazione si accompagnano ad una costellazione di critici, giornalisti, fotografi, pubblicitari, tipografi, ma anche vetrinisti, allestitori, videomakers, agenzie DPR, organizzatori di eventi, fornitori di servizi e materiali tecnici, consolidando sempre più e con largo indotto un'inarrestabile rete di collaborazioni. Legato in forma sempre più imprescindibile alle mode o al lifestyle, il design è oggi soprattutto un atteggiamento progettuale, che non riguarda più solo gli oggetti, ma coinvolge i sistemi delle relazioni e i processi dell'innovazione in una società in continua trasformazione.